Gabriele Morirone Revisorek Che cosa hanno in comune Biancaneve e Sette Nani, l'Eurotunnel e la ricostruzione in Australia dopo l'alluvione? Scusate, ho solo 12 minuti per questo talk per cui non posso ascoltare le vostre risposte e do io la risposta e mi perdonerete se la morale arriva prima della favola. La risposta è il sistema finanziario. Stiamo parlando di Amedeo Giannini che ha creduto e finanziato Walt Disney. Stiamo parlando dei risparmiatori che attraverso le borse hanno finanziato quel collegamento che oggi ci permette di prendere un croissant a Parigi la mattina e poi la sera andare a ballare in un club londinese. Stiamo parlando di imprese di assicurazione come gli OIDS che hanno indizializzato più di una catastrofe naturale. E' sul sistema finanziario che poggiano le economie moderne. Attualmente questo sistema finanziario sta vivendo una rivoluzione tecnologica. La crasi tra le parole finanza e tecnologia ha portato addirittura a un nuovo vocabolo, fintech. Adesso andiamo al supermercato e per pagare ci facciamo riconoscere dai sensori biometrici del cellulare e lo avviciniamo al post oppure avviciniamo allo smartwatch, pagamenti a portata di mano o a portata di polso. Mentre prima per gestire i nostri risparmi, attivare una polizza, richiedere un prestito, dovevamo prepararci, uscire di casa, spostarci e incontrare il nostro operatore, adesso possiamo farlo comodamente la mattina in pigiama dalla scrivania della nostra casa. E questa rivoluzione digitale ha tanti benefici perché si abbattono le barriere e aumenta l'accessibilità ai prodotti, aumenta l'offerta di servizi, aumenta l'efficienza, le relazioni diventano più immediate, i costi si riducono, i tempi si velocizzano. E tutto questo a sua volta favorisce l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili, contribuisce a ridurre il gender gap, aiuta a combattere l'usura. Ora, stiamo diventando più o meno digitali, ma il nostro cervello è il risultato di milioni di anni di evoluzione durante i quali noi abbiamo interagito con altri esseri umani in presenza, non con piattaforme digitali. Il nostro cervello, di fronte a un volto, a una faccia, ci mette meno di un secondo per formulare un'impressione, un giudizio, talvolta un pregiudizio, e decidere se possiamo fidarci o meno di quella persona che c'è dietro quella faccia e stabilire una relazione duratura nel tempo. Siamo biologicamente programmati per interagire fisicamente con altre persone e siamo diventati bravi a farlo, come dimostriamo incontrandoci nei parchi, andando a discoteche, concerti, eventi come il TED, qui oggi, dove stiamo a scambiare idee. C'è un passaggio, però, dalla faccia all'interfaccia. E questo passaggio non è neutro, perché computer, tecnologie, algoritmi non sono solo strumenti neutrali, influiscono sulle nostre decisioni. In un semplice gioco, come il gioco carta, forbice, sasso, il nostro processo decisionale è diverso se pensiamo di giocare con un computer, contro un computer, o se pensiamo di giocare contro un altro essere umano. Computer, algoritmi, interfacce, influiscono sulle nostre decisioni. Nessuno al casello del pedaggio dell'autostrada chiacchiera e saluta e risponde alla voce digitale che ha sostituito il casellante, no? Tranne mio padre, che invece continua puntualmente a dire arrivederci a lei. Ora, questo passaggio dalla faccia all'interfaccia è importante anche in contesti economici. Vi faccio un esempio, il gioco dell'ultimatum, un gioco molto famoso per gli economisti, dove c'è un giocatore A che riceve una somma di denaro, immaginiamo 10 euro, che può dividere con un altro giocatore, un giocatore B. Se B non accetta, neanche A porta a casa niente. Noi mettiamoci nei panni dei giocatori B, quelli che devono avere i soldi, le risorse finanziarie. Ora, secondo la teoria classica, dovremmo accettare anche solo un euro, no? Perché un euro è meglio di zero, secondo la teoria classica. La realtà invece è che se l'offerta è troppo bassa, ci innervosiamo, ci offendiamo e non l'accettiamo, ci arrabbiamo. Tiene tu quei soldi, le tue lemosina non le voglio e rifiutiamo l'offerta perché la riteniamo iniqua e noi siamo avversi all'iniquità. Le persone però sono maggiormente disposte ad accettare offerte inique se queste offerte provengono da un computer invece che da un essere umano. Quindi vedete, influiscono sui nostri comportamenti, computer, tecnologie, algoritmi. E tutto questo conta anche in finanza. Proiettiamoci a gennaio del 2020, gennaio di tre anni fa, proprio in questi giorni che succedeva. A Wuhan veniva annunciato il primo lockdown di massa della storia. Quindi si mettevano in pausa le nostre relazioni sociali e fisiche. Lo Standard & Poor's 500, che è il principale indice azionario statunitense, è un indice che riflette l'andamento delle più grandi imprese statunitensi, le 500 più grandi, crolla. C'è una rapida e inattesa discesa dei prezzi. Qual è l'istinto dell'investitore in questa situazione? È quello di vendere indiscriminatamente tutti i titoli ad alto rischio. È un fenomeno che prende il nome Flight to Quality. Decisione che poi non sarebbe neanche tanto corretta, perché come vedete dopo poco l'indice inizia a risalire. Ma al di là di scelta giusta o sbagliata, al di là di questo, chiediamoci in uno scenario di panico quale sarebbe la reazione dell'utente se invece di incontrare il suo consulente di lunga data, il signor Claudio Rossi, incontrasse Mr. Consulbot, il nuovo avatar digitale? Beh, assumere che la reazione dell'utente sarebbe la stessa nei due scenari potrebbe essere una pericolosa semplificazione del comportamento umano. E noi dobbiamo stare attenti alle semplificazioni, molto attenti, perché ci sono state tante crisi economico-finanziarie e molte non siamo riusciti a prevenirle, neanche prevederle. Perché? Perché al centro dei modelli c'è una persona, un soggetto che nella realtà non esiste. Esiste solo sui libri, ma non è poi quello che incontriamo al supermercato. è un soggetto che è 100% perfettamente razionale, ma in senso economico, non in senso evolutivo. Quindi è un soggetto che usa solo la logica, che non si interessa delle relazioni sociali, che è impermeabile alle emozioni. Non è così. Le emozioni condizionano tutte le nostre scelte e per fortuna, perché sennò saremmo degli idioti sociali, anche quelle finanziarie. Le emozioni condizionano tutte le nostre scelte, ma le emozioni sono molto difficili da studiare, perché sono dei processi neurobiologici, neurofisiologici, che avvengono nel nostro organismo molto spesso, senza che ne abbiamo contezza, consapevolezza. Per cui se qualcosa avviene inconsapevolmente e l'influenza dei fattori su questi meccanismi decisionali, su questi processi, su queste emozioni, è parzialmente inconsapevole. Come facciamo a studiarla? C'è un filone di studi estremamente recente, la neuroeconomia, che ha messo insieme nei laboratori delle università più prestigiose, quindi Harvard, Mitzlone, Princeton, Caltech, Cambridge, studiosi provenienti da discipline diverse, neurofisiologia, biologia, gli economisti, ingegneria, psicologia, sociologia, e questa collaborazione tra studiosi di discipline diverse ha iniziato gradualmente a svelare questi meccanismi decisionali, i processi emotivi che guidano le nostre scelte. Quindi è possibile studiare qualcosa di complesso come i meccanismi decisionali e le emozioni con un mix di metodologie, per cui il rilevamento della frequenza cardiaca, della sudorazione, osservare i movimenti dello sguardo tracciandolo con la tecnica dell'eye tracking, rilevamento delle espressioni facciali, o ancora rilevando la risposta del nostro sistema endocrino, osservando molecole come l'ossitocina, il cortisolo, il testosterone, che sono fondamentali quando parliamo di fiducia, interazioni sociali, rischio, che sono tutte parole chiave, momenti cruciali e tipici della finanza. Ora, al centro del sistema finanziario, anche il più evoluto dal punto di vista tecnologico e digitale, c'è comunque l'essere umano, le persone, che interagiscono sia con le facce che con le interfacce. Se misuriamo con esattezza e studiamo i meccanismi decisionali e le emozioni che sono legate a queste interazioni, possiamo cercare di ridurre il divario che esiste tra interagire con una faccia o con un'interfaccia. E studiare questi meccanismi è importante perché un sistema finanziario che non funziona vuol dire niente film di Walt Disney, vuol dire distanze geografiche più lunghe come quelle tra Londra e Parigi, vuol dire meno progettualità, meno risparmi, meno investimenti, meno un uovo oggi per una gallina domani. Ora vorrei che pensaste un attimo ad un momento in cui vi siete accorti di essere super felici ed entusiasti. Molto probabilmente in quel momento c'era qualcuno accanto a voi. Sono sempre di più gli studi che mostrano che c'è una relazione positiva tra le interazioni, il calore delle connessioni sociali, la qualità delle relazioni e il benessere mentale, fisico, spirituale, la felicità delle persone. In finanza queste interazioni sono cruciali perché sono le fondamenta del sistema finanziario, ma non solo, sono il lubrificante dei suoi delicati e preziosi ingranaggi. E se le relazioni non sono di qualità, il sistema finanziario si paralizza. Al centro di tutto, quindi, ci sono le relazioni che devono essere di qualità. E le relazioni sono di qualità se riconoscono, considerano e generano emozioni. Grazie. Applausi 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 Applausi